Oggi 22esima giornata della colletta alimentare, per la 22esima volta a Bagheria partecipiamo alla giornata nazionale. Quest'anno i punti vendita che adiriscono all'inizio iniziativa sono il Simpli di Via Libertà a Bagheria, l'Eurospar del centro commerciale Debug, il Sisa di Via Fleming e l'Eurospin di Via Walter Cusina. È un gesto di solidità che chiediamo alla cittadinanza bagrese per venire incontro alle innumerevoli necessità delle famiglie del nostro territorio che arrivano alle associazioni del Banco Alimentare con richieste di aiuto di qualsiasi genere. Quest'oggi ci stiamo occupando di fare questa raccolta di alimenti a lunga conservazione e che soprattutto possano soddisfare i bisogni delle fasce più deboli, quindi dei bambini e degli anziani. Quindi vi invitiamo a scendere da casa e a contribuire con un minimo di raccolta per questa giornata. Bagheria negli scorsi anni ha sempre dato una grande risposta a questa giornata. Si sono raccolti sempre ben oltre le due tonnellate di generi alimentari. Quest'anno lanciamo una sfida al nostro territorio nel tentativo di superare i quota 2.200 kg, che è stato il risultato dello scorso anno. Speriamo quindi che i bagheresi possano essere ancora più sensibili degli anni passati e possano consentire quindi alle associazioni che sono convenzionate con il Banco Alimentare di fare una buona raccolta che poi possa essere d'aiuto per le nostre famiglie del nostro territorio. Grazie.